Musica E' bella a tutti ragazzi, oggi è iFlex che vi parla Ed oggi siamo con quella persona, che cazzo? Vabbè, siamo qui per esplorare il server fazione più bello di Minecraft console Io non ho mai visto un server fatto così bello Con quegli alberi, con quelle montagne fatte a mano C'è proprio una figata, che non ci riesco neanche io, perciò è bello Allora, qui abbiamo una lobby sotto la lobby sopra Cioè la cosa è abbastanza strana da sentire, però ora ve la faccio vedere Qui, vabbè, abbiamo queste belle persone che rovinano tutto il server Perché, vabbè, sono brutte, non c'entrano niente col server Beh, questa è la lobby con questi cartelli un po' a caso Ah, ho capito, quindi l'ha fatto in inglese questa mappa Comunque l'ha scaricata da Andri su PS4 Non l'ha fatta lì a mano Qui abbiamo, comunque l'ha fatto in inglese veramente bravissimo Qui abbiamo delle torri, comunque tutta una zona Con anche delle enchanting table Una fontana molto bella con questi cancelli Fatto veramente molto molto bene Qui abbiamo anche gli spawner su Minecraft PS4 Cosa mai vista? È la prima volta, infatti, che bello Ma guarda, ti faccio vedere una cosa più bella Che sta là Dove? Adesso vedrai Tu resta sopra Ah, resto sopra, ok, saldo Comunque già potete vedere là sopra quegli alberi immensi Cioè, proprio bellissimo Beh, intanto che Andri ci fa vedere questo Ah, dove sei? Ecco, lo spawner del Come fai? Ma li metti tu gli spawner? Sì Ma come fai? Lo spawner di Ender Dragon Lo spawner di Wither Eh, adesso vedrai Adesso l'Ender Dragon vuole Renal Pack Bellissimo Comunque raga, ve lo consiglio tutta la vita Questa serverfazione di questa persona qui in alto Quindi vi lascio un attimo per prendere il no E mandargli l'amicizia Ho degli spawner in mano Bellissimo Ah, non posso metterli perché non ho i permessi Ah, questo è del porco Eh sì, perché appena lo piace È diventato un po' del maiale Ah, lo devo mettere qua Questo è il coso di neve Il Wither L'Iron Golem E il Drago Va bene Ok, poi esploriamo il mondo dove abbiamo questi grandissimi alberi Veramente bellissimi Guardate che figata Bello Poi queste montagne fatte a mano C'è che sono più belle di quelle di Minecraft Vabbè questa cosa è solamente un dettaglio Però nicchia Fatte veramente belle L'unica cosa bella è l'acqua che non Che si blocca Questa cosa è la cosa più bella del mondo Vabbè qui abbiamo un laghetto E qui abbiamo un'altra Ah, ma qui c'era una scritta No, un albero Dico qui abbiamo la montagna più grande Ma è veramente una cosa gigantesca Cioè io ero tutto contento per il Colosseo che ho fatto Questo è il triplo del Colosseo Minchia ci sono restato malissimo quando l'ho visto Cioè vorrei capire una persona quanto ci sta da farla No, aspetta Vieni un attimo da me Voglio vedere una cosa Avrà usato WorldEdit Puoi venire un attimo da me di DIP Sì sì sto qua Ah ok Posso fare così un attimo Scavo verso il basso Se l'ha fatta tutta piena Ah ok tu intanto vai Poi ti faccio vedere un'altra cosa abbastanza Tutta piena Ma è un drogato O l'ha fatta Cioè l'hanno fatta miliardi di persone Perché se l'ha fatta solo una persona Io ci resto malissimo Ma siamo pazzi Tutta piena No veramente Ci resto malissimo Comunque l'handesite per il levicato e fare montagne Ci sta un sacco Poi qui tipo queste montagne che continuano Altissime Veramente bellissimo Giocare qui Una serie di fazioni È una figata Ditemi sotto i commenti se volete Una serie di fazioni su questa mappa È veramente bellissima Queste montagne enormi Madonna No aspetta Voglio vedere quanto siamo alti qua Allora Mappa 227 blocchi di altezza Mamma mia Perché qua c'è uno Nascosto Vuoi capire come c'è arrivato Fino a là Però vabbè Quelli sono dettagli No ma questi alberi Sono veramente bellissimi Stare qui a guardare questo mondo ore e ore Ounque Quanti like chiediamo Eh però Aspettate che Non c'è per ora Sarà andato da qualche parte Quindi Intanto vi faccio vedere un pochino questo mondo Qui abbiamo una pianura In mezzo alle montagne Questo posto è veramente bellissimo Io ci vengo qua a vivere Però quell'acqua Non mi piace Di qua si vede l'acqua Qua Bellissimo Ma perché si deve vedere quell'acqua Cioè Avete presente tipo le onde Quelle grandi Solo che tipo Si bloccano Tipo qua Sotto la montagna Mamma mia Ma qua è ancora più alto Ma qui Cazzo Sono fumati a fare sta cosa Anche del legno Forse il legno L'hanno dimenticato Oppure l'ha lasciato Qualche persona Che sta giocando Mamma mia Vabbè raga Aspettiamo intanto Andy per vedere Quanti like vi chiede Per questa Mappa Veramente bellissima Intanto ricordo di mandargli L'amicizia Ricordo che in descrizione Troverete la pagina telegram Il gruppo telegram Mi raccomando Passateci Ah ma qui Ci sono le scale Ah c'è anche una pecora Che guarda Via E di qua si entra Bello veramente Sono rimasto Sorpreso Non me lo sarei mai Aspettato Un server così Ah qui Già sti babbi Hanno combinato Il casino Più totale Io non sono stato Li ha messi lui Quelli là Quindi io non voglio Avere responsabilità C'è Qua quanto siamo Di altezza 17 Tipo poi Arrivino Lassopra No vabbè L'unico difetto Di sto mondo È che poi C'è tipo Questa barriera Così Questa cosa E poi con l'acqua Così Non mi piace Però per il resto È veramente Fatto molto bene Questo mondo Vabbè va Visto che Andri È morto Li chiedo io E like 50 Sono pochi Per questo mondo Ne dovremmo arrivare Almeno A 75 like Se poi arriviamo A 100 Ci farò anche Una serie Su questo server So che potete arrivarci Anche perché Lasciare un like È sempre gratis Quindi raga Per questo video È tutto Il mondo È veramente Una figata Mi congratulo Con l'inglese Pazzo Che ha fatto Sto mondo Quindi Dai Flex È tutto Bella